Se è vero che sei senza dubbio un cittadino del regno dei cieli, resta il fatto che qui e ora fai parte di un mondo dove devi pagare le bollette, l'abbonamento a internet, l'affitto e così via. Il costo della vita è una realtà e a volte le preoccupazioni finanziarie sono un pensiero che può assorbire tutti gli altri, consumare la tua gioia e mettere alla prova la tua fede. Ti senti schiacciato dal peso delle finanze? Eppure Dio dichiara nel Salmo 132 15 Io benedirò largamente le sue provviste, sazierò di pane i suoi poveri e aggiunge anche in Luca 12 27 28 Guardate i gigli come crescono, non faticano e non filano, eppure vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria si vestì come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede. Dio conosce i tuoi bisogni in tutta la loro interezza. Non ti ha dimenticato e non ti lascerà da solo. Aggrappati alla sua parola, alle sue promesse. Lui è il tuo liberatore anche nel settore finanziario. Come figli di Dio creati a sua immagine siamo chiamati ad essere proprio come Lui e Lui è un donatore gioiosamente generoso. Quando Lui dà, può anche scegliere di dare attraverso di noi. Se sei stato incoraggiato da un miracolo ogni giorno e senti nel cuore di donare, grazie per la tua generosità. Dio non si è dimenticato di te. Soddisferà i tuoi bisogni. Eric Seleriet